Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui, ore 13.30 come sempre per parlare insieme di fantacalcio. Ieri abbiamo parlato dei top in difesa, oggi andiamo a parlare dei top a centro campo. Continua quindi questo viaggio nella terra di mezzo. Alcuni di voi hanno iniziato a fare le domande giuste in alcuni commenti sotto ai video chiedendo ad esempio ma se risparmiamo qui, se risparmiamo lì, poi questi soldi dove li andiamo a spendere? Ci arriveremo ragazzi, ci arriveremo, ci saranno alcune opzioni, poi ne andremo a parlare. Prima però andiamo a finire questa analisi di top in difesa, l'abbiamo fatta ieri, oggi facciamo il centro campo, poi ci prendiamo una pausa domani dopo domani perché domani dopo domani è il momento di parlare di attualità, di formazioni di questo venticinquesimo turno di campionato e lunedì andiamo a chiudere questo tris di video sui top con gli attaccanti. Poi da martedì parleremo di altro, sempre per quanto riguarda il progetto terra di mezzo. Detto questo, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, i like sono gratis ma servono veramente un sacco soprattutto nei periodi dove magari c'è un po' meno interesse legato al mondo del fantacalcio. I vostri like sostengono il canale sostengono questo progetto, anche terra di mezzo, quindi mi raccomando ricordatevi sempre di metterlo. E adesso andiamo a vedere i top nel centro campo. Eccoci qui, top e centro campo. Come abbiamo fatto ieri per la difesa andiamo a fare la stessa cosa, almeno all'inizio, per quanto riguarda il centro campo e quindi andiamo a fare una top 10 quest'anno per fantamedia dei tutti i centrocampisti che hanno giocato almeno 13 partite. I primi quattro sono Milinkovic, Savic, Barak, Cialanolu e Pasalic. Poi abbiamo Fabian Ruiz, Pellegrini, Candreva, Bayrami, Zaccani e Zelinski. Questi sono, questa è la top 10 appunto per fantamedia. Come possiamo vedere su questi dieci nomi? Abbiamo Milinkovic, top anche a inizio anno, Barak, underdog, Cialanolu, una seconda fascia, prima fascia bassa che fin qui ha performato come un top, Pasalic, underdog, Fabian Ruiz, una prima fascia bassa, seconda fascia alta, Pellegrini, idem, Candreva, underdog, Bayrami, underdog, Zaccani, underdog, barra, seconda fascia bassa, terza fascia alta. Ricordiamoci che con l'infortunio che aveva inizio anno in molte leghe è stato pagato veramente poco e Zelinski un primo slot ma non uno dei primissimi, ok? Questa è la top 10 per fantamedia. Poi siccome qui aveva poco senso andare a vedere una top 10 per media voto ho deciso di farvi vedere anche le posizioni dalla 11 alla 20 sempre parlando di fantamedia, ok? Malinoski, Aramu, Barella, Perisic, Saponara, Orsolini, Pobega, Copminers, Chessi e Chiesa. Quindi abbiamo Malinoski che era un top, Aramu, underdog, Barella un secondo slot, Perisic possiamo definirlo anche qui un underdog perché a inizio anno è stato pagato relativamente poco in tante leghe, Saponara totalmente un jolly, Orsolini una seconda fascia, seconda fascia bassa, Pobega underdog, Copminers, jolly, underdog che sì top, è stato pagato in tante leghe come top, Chiesa addirittura super top al ventesimo posto. Chi non c'è in questa top 20? Sicuramente veri tu, Luis Alberto, Mkhitaryan e Zaniolo, fin qui dei flop. Tra l'altro, cosa interessante, 3 su 4 sono tutti della Roma, sarà un caso? Non lo so. Brian Diaz e Felipe Anderson, io qua ho messo si può dare di più nel senso che non sono giocatori che sono stati pagati quanto dei top, ma un 6-7% sì e se io pago un centrocampista il 6-7% mi aspetto che almeno in top 20 ci siano, quindi comunque anche da loro mi aspetto di più in questo finale di stagione. Soriano e Castrovilli, dei terzi slot che fin qui hanno fatto una stagione, almeno per quanto riguarda i bonus, parlando di Soriano e Castrovilli in generale, molto sottotono. Soriano l'anno scorso era stato un buon underdog che aveva performato finendo in top 20, a fine anno, quest'anno invece da un punto di vista bonus ha sicuramente deluso molto. Pereira e Damsgaard, qui c'entrano poco il discorso flop o meno, c'entra il discorso infortuni. Damsgaard non l'abbiamo praticamente mai visto quest'anno e Pereira è stato a lungo fuori, ora dovrebbe tornare, vedremo, ma comunque qui il fattore infortuni ha pesato sicuramente molto. E l'anno scorso che cosa successe? Beh, andiamo a vedere la top 10 a fine anno come fantamedia. Mkhitaryan, Malinowski, Chiesa, De Pol, che sì, Veretù, Zelinsky, Milinkovic, Savic, Viola e Luis Alberto. Beh, all'occhio poco attento di qualcuno si potrebbe dire, cavolo, l'anno scorso hanno vinto i top, non gli underdog. Attenzione, di questi dieci nomi che a fine anno abbiamo detto che erano la top 10, solamente quattro erano nella top 10 dell'anno precedente. Cioè, se io all'inizio della stagione 20-21, quindi l'anno scorso, fossi andato a vedere quello che era successo nella stagione 19-20, come sto facendo adesso, mi sarei reso conto che in realtà solamente Mkhitaryan, Chiesa, De Pol e Luis Alberto, hanno confermato il rendimento da top 10. Perché poi alcuni di questi nomi, Veretù e Chiesa, ad esempio, furono nella top 10 solamente grazie ai rigori. Infatti, se vi ricordate, l'anno scorso, Chiesa e Veretù non furono pagati come dei top come quest'anno, ma furono pagati come degli underdog alti, come delle seconde fasce basse, terzi slot alti, massimo 5, esagerando 6%. Mentre poi, grazie ai rigori, ebbero un rendimento veramente da top. Quindi, in realtà, qui, tolto Mkhitaryan, tolto Chiesa, tolto De Pol e tolto Luis Alberto, abbiamo Zelinsky, che l'anno prima non fece una stagione da top. Abbiamo Viola, che comunque non fu assolutamente pagata come un top, fu un vero e proprio underdog. E Malinowski stesso, che l'anno prima non era considerato ancora un top. E comunque, l'anno scorso, Malinowski poi esplose nel girono di ritorno. Quindi, lo stesso Milinkovic-Savic, che ora diciamo che ha una garanzia, l'anno prima di questo, quindi stagione 19-20, non ebbe un rendimento da top 10. Quindi, come vedete, di questi 10, solo 4 l'anno prima fecero una stagione da top 10. Cosa possiamo dire, quindi? La cosa fondamentale è capire che da una stagione all'altra, parlando di centro campo, oltre il 50% della top 10 cambia. Se io vado a vedere i nomi che in questo momento sono in top 10 rispetto alla top 10 dell'anno scorso, su 10 nomi, solamente 2 sono ripetuti. Milinkovic-Savic e Zelinsky. 8 sono o degli underdog, o delle scommesse, o delle sorprese, o dei secondi slot bassi, primi slot molto bassi. Insomma, non erano in top 10. Ok? Se vado a fare questo paragone, e l'abbiamo fatto prima, tra stagione 19-20 e 20-21, su 10 nomi, comunque 6, erano cambiati. Ok? Inoltre, è importante ricordarsi che, se è vero che la differenza di prezzo tra un top e un underdog è un qualcosa di molto importante, che ci ricordiamo tutti, che a volte arriva anche a 10 punti di percentuale di differenza, è importante anche la differenza tra un top e un secondo slot. Perché se io a fine anno mi ritrovo in top 10 un Cialanolu, che magari ho pagato il 6-7%, rispetto a un Luis Alberto o a un Miki Tarriam, che ho pagato il 10%, ok? Non sarà stato quell'affare come può essere stato un affare il Barak, o il Candreva pagato il 4-5%, o magari ancora meno. Ma, attenzione, comunque 3-4 punti di percentuale di differenza sono comunque importanti. Ok? Questa è una cosa importante perché poi ce l'andremo a ritrovare quando andiamo a trarre così le conclusioni finali per la strategia di quest'estate terra di mezzo. Altra cosa importante è che un underdog che fa un'ottima stagione e arriva in top 10, l'anno dopo viene pagato da top. Due esempi su tutti. Che si è vero e tu. Anno scorso stagione della vita, quest'anno all'asta quanto l'abbiamo pagati come dei top, ok? E altra cosa da aggiungere è che, soprattutto in questo caso, nel caso di che sia di vero e tu, la variabile rigori purtroppo non è prevedibile. Ci può essere l'anno che una squadra ha 15 rigori, l'anno dopo che ne ha 5, che ne ha 6. E spesso il numero di rigori non è correlato in modo logico al rendimento della squadra. Facciamo l'esempio di Crescito che nel giro di andata ha fatto 5 su 5 sul rigore, ma il Genoa non è che abbia fatto un gran giro di andata, no? Quindi non è detto che squadra che va bene, tanti rigori, squadra che va male, nessun rigore. Assolutamente no. Non sta scritto da nessuna parte e questa cosa è fondamentale capirla. Come è fondamentale capire che negli ultimi due anni, cavolo, su 20 nomi delle due top 10, solamente due quest'anno e 4 l'anno scorso, quindi 6 in totale su 20, non sono, ci si sono ripetuti. 14 nomi sono cambiati. Questo vuol dire che noi, quando è inizio anno, andiamo a farci le nostre fasce. Che cos'è che facciamo? Ok, possiamo tener conto delle prospettive, delle ipotesi legate magari a quella squadra, legate a quel giocatore, tutto vero. Ma la cosa più facile da fare è basarsi un po' sulle statistiche dell'anno precedente, ok? Lo facciamo noi, ma lo fanno anche chi fa ad esempio la guida di fantacalcio.it. Se noi andiamo a vedere spesso la guida, no? Che c'è inizio anno, la guida per l'asta, i nomi che mettiamo in alto, che vediamo in alto sono i nomi che hanno fatto molto bene l'anno scorso, ok? L'anno precedente. Il problema qual è? È che se iniziamo a vedere che su 20 nomi 14 sono cambiati negli ultimi due anni, è cavolo. Allora lì iniziano un po' a crollare alcune certezze. Perché vuol dire che non è più come in porta o come in difesa dove magari c'è quello che floppa, ci ne possono essere due in difesa che flopano, tre se magari qualcuno si rompe come Gosens quest'anno. Cavolo, se su 10 nomi 6, 7, 8 addirittura mi flopano la stagione, io inizio a dubitare, no? Dell'importanza di avere un top o presunto tale a centrocampo. E allora ragazzi, io vi anticipo che nella terra di mezzo i top a centrocampo li lasciamo proprio stare. Premessa, io resto convinto che ormai Milinkovic-Savic abbia raggiunto uno status che, qualora non dovesse cambiare squadra, non dovesse cambiare ambiente, ma comunque ha raggiunto un tale livello che, infortuni escludendo, diciamo, ormai lui è una garanzia di rendimento. Può farti la stagione da 7 gol e qualche assist, ti può fare quella da 10 gol, ma comunque sai che cosa aspettarti da lui. Zelinsky potrebbe diventare quel tipo di giocatore, però poi tutto il resto dipende dall'allenatore, dallo stato fisico, dal ruolo, dalla disposizione in campo, insomma dipende da tantissime cose, ok? Quindi personalmente nella strategia terra di mezzo vi anticipo già che i super top, abbiamo già detto che li evitiamo, evitiamo ovviamente anche i top, sui secondi slot poi ne parleremo, ok? Ci può essere una piccola eccezione in alcuni casi, ma in linea di massima anche i primi slot bassi, i secondi slot alti a noi interessano poco, ma di questo poi ne andremo a parlare, perché giustamente qualcuno di voi, come dicevamo prima, ha iniziato a chiedere, ma se risparmiamo lì, risparmiamo qui, alla fine questi soldi, dove li spendiamo? Ecco, di questo poi ne andremo a parlare più avanti. Ragazzi, per oggi è davvero tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, dei top, del centro campo, dei semi top, eccetera, eccetera. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo oggi alle 17, piattaforma viola, come sempre, il canale Il Profeta Twitch, mentre alle 18 ci vediamo, come sempre, qua su YouTube, live dedicata alle aste, diciamo, che avete fatto in questi giorni, aste di riparazione, le vostre rose, i vostri scambi, andiamo a parlare un po' di tutto questo. Domani, invece, ci prendiamo una pausa dal progetto Terra di Mezzo, alle 13.30 uscirà l'analisi di tutte le partite di questo 25esimo turno di Serie A, e poi, come sempre, alle 17 e alle 18 ci saranno le due live, prima piattaforma viola, poi qua su YouTube per i vostri dubbi di formazione. Grazie mille ragazzi, a domani. Ciao!